Ciao ragazzi, benvenuti o bentornati su American Coffee Travel. Se mi seguite sapete che ho fatto un viaggio backpacking in giro per il Giappone dove ho visitato più di 25 prefetture giapponesi da sola dal 30 di agosto fino al 9 di novembre del 2023. È tutto organizzato da me, come sempre, e questo è il mio quadernino dell'organizzazione perché avevo organizzato ogni singolo giorno nel dettaglio prima della mia partenza. Mi ci sono voluti all'incirca due mesi e mezzo lavorando full time e avrendo tre lavori per appunto programmare tutto questo viaggio alla perfezione. Durante questo periodo backpacking, ebbene, ho dormito in tantissimi posti diversi, più di 25 stelle, 10 internet, caffè e il resto del tempo l'ho dormito nelle mie macchine a noleggio dove ne ho prese quattro in zone diverse del Giappone, ho dormito su autobus notturni, traghetti notturni e per un paio di giorni a casa di un'amica. Quanto mi è costato dormire in Giappone? Tutti gli stelle mi sono costati appunto tra i 10 euro fino a un massimo di 24 euro a notte. Gli internet caffè non hanno mai superato i 22 euro a notte e l'ostello più costoso appunto che ho prenotato è l'ostello di Gero Onsen che mi è costato 24 euro e 40 centesimi a notte. Io ho viaggiato con dollari australiani perché correntemente vivo in Australia e il cambio valuta tra dollaro australiano e yen giapponese al momento in cui io viaggiavo e anche adesso non è conveniente e all'incirca 100 yen per appunto un dollaro australiano. Questa è la mia top trend degli ostelli meno costosi in cui io abbia alloggiato durante questo viaggio. Non c'è sponsorizzazione, semplicemente erano gli ostelli meno costosi. Al nostro numero 3 abbiamo Little Asian Guest Out nella prefettura di Kagoshima, nella città di Kagoshima, nel Kyushu. Questo ostello mi è costato solo 11 euro e 31 centesimi. Mi sono fatto un po' di note qua, se no non mi ricordo i prezzi. Quindi ho pagato 18 dollari e 64 centesimi. Ragazzi, per questo ostello io ho alloggiato solo una notte. Il secondo ostello meno costoso è stato nella località di Shirahama, nella prefettura di Wakayama. Questo ostello mi è piaciuto tantissimo, ma non solo lo ostello per sé, ma mi è piaciuto tantissimo questa zona e questa località e ci tornerei assolutamente. E questo è stato Gast House Shirahama, che mi è costato la bellezza di 11 euro e 6 centesimi soltanto. Quindi 18 dollari e 23 centesimi. E questo veramente è stato tra i miei alloggi preferiti, la zona che ho preferito di più. Mi è piaciuto veramente tantissimo e ci ritornerei assolutamente. Uno dei motivi per cui ho deciso appunto di fermarmi in questa zona più precisamente è stato perché sono riuscita a trovare questo ostello che costasse poco e quindi ho detto, oh ok, allora l'ho inserito assolutamente nel mio viaggio e mi sono fermata e non me ne sono pentita. Al numero uno, l'ostello che mi è costato di meno si trova nella prefettura di Okinawa, nella città principale di Okinawa che è Naha. E questo ostello è Gast House Kam Kam. Io sono stata due volte in differenti momenti in questo ostello, quindi ho alloggiato per due notti all'inizio del mio viaggio a Okinawa, quando sono arrivata col traghetto e l'ultimo giorno prima di ritornare a Tokyo. Nel mezzo ho noleggiato la macchina e questo ostello, il rullo di tamburi, mi è costato 8,39 euro a notte. Devo dire che la qualità di questo ostello non era proprio perfetto, diciamo che era abbastanza al budget, uno ostello estremamente al budget, ma considerato il prezzo appunto di 8 euro. Mi sono trovata bene e ci sono tornata appunto per due volte, ci sono stata due volte, ci ritornerei? Personalmente sì, non era tra gli ostelli più belli dove abbia alloggiato in Giappone, ma era comunque abbastanza decente, ho visto di peggio. Questo è quanto ho pagato, questi sono stati appunto gli ostelli meno costosi, quindi il meno costoso era 8 euro e il più costoso che vi ho fatto vedere prima era appunto 24,40, quindi diciamo che all'incirca ho pagato sui 20 euro a notte tra i 15 e i 20 euro a notte ogni notte. Questo più o meno è stato il prezzo che ho pagato per appunto i posti dove ho dormito. Mi sono affidata 4 siti web e in più ho fatto un paio di chiamate per prenotare un paio di posti che potevo prenotare solo tramite telefono una volta arrivata in Giappone. Ma quindi queste quante ragazzi, vi lascio sotto il link con questi tre ostelli dove io ho alloggiato e per farvi capire un po' che viaggiare in Giappone non è veramente molto costoso, se volete veramente potete spendere all'incirca 20 euro a notte, è molto molto fattibile. Ricordatevi di schiacciare la campanellina se non siete iscritti, iscrivetevi perché ogni martedì arriverà appunto il mio vlog del mio viaggio in Giappone. Siamo al momento all'episodio numero 17 e il prossimo episodio sarà riguardante Hakodate che è una città che mi è piaciuta molto, martedì prossimo. Quindi ci vediamo alla prossima ragazzi, iscrivetevi ad American Coffee Travel Caffè Cappuccini. Ciao ciao!